buongiorno a tutti siamo di nuovo oggi abbiamo una bella storia di cinzia bella ma anche un po drammatica anche con lieto fine buongiorno a tutti mi chiamo cinzia volevo condividere con voi la mia storia per aiutare i genitori ad essere attenti al bisogno dei figli che hanno il desiderio di appartenere a qualcuno o a un gruppo e non sanno come e cosa fare per essere accettati sono nata in una famiglia benestante ma ero da sola non avevo né fratelli né sorelle non avevo neanche relazioni con i cugini perché i miei erano molto chiusi nei rapporti con la famiglia non ho mai capito perché crescevo in una famiglia credente cioè ogni domenica si andava alla messa c'era la devozione del rosario qualche preghiera e mia madre mio padre citavano con me le mie pregherine alla sera quando ero bambina alle elementari avevo due amichette ma non riuscivo creare una relazione di vera e propria amicizia con qualcuno oltre che avere un comportamento più maschile che femminile ottenevo quello che volevo con i pugni anche dai maschi mio padre era orgoglioso perché riuscivo ad arrangiarmi nella vita crescevo proprio così alle medie mi sono legata a un gruppo che sperimentava tutto sia sigarette che il sesso all'inizio forse non era vero e proprio sesso ma un tipo di molestia piacere eccetera in verità non ero perfettamente consapevole di quello che facevo e gli altri approfittavano della mia ignoranza e ingenuità creando il campo di sfruttamento mi sono legata ad un ragazzo che per due anni mi molestava almeno una volta alla settimana ma non è mai arrivato a fare amore con me tutto questo mi faceva sentire sporca ma non riuscivo a smettere perché mi appagava il pensiero di piacere a qualcuno tutto è durato fino alla fine delle medie poi per fortuna le nostre strade si sono divise direi in modo naturale lui con la famiglia si sono trasferiti in un altro paese questa esperienza però ha lasciato il segno non mi piacevo anzi mi odiavo mi sentivo la ragazza da sfruttare così non accettavo la mia fisionomia ho iniziato a vestirmi da ragazzo anche con il taglio dei capelli infatti nelle foto del liceo sembravo un maschio in quel periodo mi sono rinchiusa in se stessa nessuno poteva entrare con me in una relazione profonda e sincera avevo compagni ma non amici andavo dappertutto viaggiavo con i vari gruppi ma niente relazione ero come un'isola sperduta ridevo ma non ero felice anche se esternamente sembravo una persona libera dentro ero chiusa come un guscio i miei non si sono accorti di niente l'unica cosa che era che la mia madre si arrabbiava per modo in cui mi vestivo ma non riusciva a fare nulla mi ribellavo tornavo tardi a casa anche se non facevo niente di grave perché avevo anche smesso di fumare a scuola mi arrangiavo il liceo classico non mi dava problemi unico sfogo era lo sport finché in una uscita per la gara non ho visto l'alcol la droga il sesso ho smesso anche di fare lo sport che ritenevo l'unica attività pulita dopo il liceo sono riuscita a trovare il lavoro ma nessuna relazione freddezza e comportamento da maschio stavo quasi pensando di cambiare il sesso odiavo essere femmina ero disperata ho incontrato emma ci siamo messe insieme ma di nuovo provavo la sensazione di sporco la relazione è durata sei mesi ed io sono giunta a questa conclusione devo farla finita con questa vita fare qualcosa per sparire però vi dico una cosa strana per tutto questo periodo mentre frequentavo le medie il liceo e nelle altre situazioni ogni domenica andavo in chiesa come una routine per abitudine senza mai impegnarmi direi frequentavo come un sordo che voleva ascoltare un brano musicale un giorno nel nostro ufficio si è presentata un uova impiegata una ragazza semplice con il diploma di economia anch'io ho dovuto laurearmi per mantenere il lavoro si chiamava loredana sembrava una persona fuori luogo gentile sorridente cordiale con tutti la osservavo ma dopo il lavoro scappavo in fretta alla mia tana cioè il mio appartamento senza uscire da nessuna parte se non per fare la spesa tutte le sere uguali con il telefonino che consultavo anche fino a tardi un giorno loredana mi ha fermato chiedendomi se mi avrebbe fatto piacere bere con lei caffè o mangiare un spuntino a mezzogiorno ero così stupita per questa proposta che ho detto di sì questo incontro è stata una tortura per me non uscivo a parlare una fatica enorme ad esprimermi mi sono così chiusa che a malapena riuscivo a rispondere a qualche domanda posta da loredana ma lei non si è data per vinta e quello stesso giorno mi ha invitato a partecipare a un incontro con il suo gruppo questa volta rifiutai tornata al lavoro ho chiesto al responsabile di poter uscire prima portando come scusa di star poco bene sì che stavo male non per problemi di salute ma per unica ragione volevo scappare dalla gente tempo prima loredana mi avevo chiesto il numero di telefono che ho stupidamente le ho dato quella sera mi ha chiamata ma io non ho risposto non sapevo come uscirne da questa situazione non volevo nessuna amicizia niente avevo paura delle relazioni ero così depressa non so come abbia saputo dove abitavo ma quella sera stessa dopo il lavoro è venuta a trovarmi ho sentito suonare il campanello non avevo la più pallida idea di chi fosse ma sono andata ad aprire quando ho visto loredana la mia rabbia è esplosa e ho gridato vattene lasciami pace lei mi ha spinta dentro abbracciandomi ho inziato a piangere loredana mi ha dedicato quasi tutta la notte ascoltandomi e promettendomi di altarmi mi ha detto che si accorta che ero in una depressione mi ha trovato uno psicologo tra i suoi amici adesso grazie a loredana sto uscendo dalla depressione ho iniziato a scoprire il valore di essere femmina poi lei mi ha aiutato a scoprire dio e grazie della sua comunità del neocatecumenato sto preparandomi alla confessione in questa occasione voglio dire grazie loredana grazie amica mia ho tanta strada da fare ma con l'aiuto di dio e degli altri cristiani ce la farò grazie a tutti ecco cari miei penso che su questa storia non servono commenti grazie a voi scrivete le vostre storie e mail e sotto i video affidiamo alla madonna tutte persone che non riescono ad accettare se stessi ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen buonasera a tutti buonasera buonasera buongiorno ciao ciao ciao